Abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente che tenga nella dovuta attenzione i corpi intermedi, a cominciare dalla famiglia. La grande prossima sfida a questo proposito sarà l'approvazione della legge del bilancio e noi ci saremo per far sentire la nostra voce e far vedere la nostra presenza significativa. Lo ha detto venerdì 2 settembre nella cattedrale di San Rufino ad Assisi il presidente generale del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo. Al termine del dibattito dal titolo Cura della Casa Comune e Fraternità nella terra di Francesco. A dialogare sul tema Piero D'Amosso, caporedattore dei Tg1, il francescano Padre Enzo Fortunato, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e la responsabile dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi nocera Umbragualdo Tadino, Marina Rosati. L'incontro si è inserito nell'ambito del cinquantesimo Consiglio Generale del Movimento Cristiano Lavoratori, conclusosi con la celebrazione eucaristica nella Basilica Superiore di San Francesco del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e con l'itinerario spirituale nei luoghi sacri al Poverello e a Santa Chiara, guidato da Don Francesco Poli.